Via via le centrali di acquisto stanno facendo risparmiare e andiamo verso i costi standard, cioè la famosa siringa in Calabria deve costare quanto in Emilia Romagna, questo è il punto chiave. Ma i 2 miliardi di euro in più che si sommano ai risparmi delle centrali uniche di acquisto vanno su una giustissima presa di posizione che ha preso il Presidente Bonaccini che io voglio difendere qui a Fidenza, che è quella dei vaccini. Noi abbiamo bisogno di dire che la polemica assurda di un vaccino antiscientifico è un'assurda. Secondo l'anno sui farmaci innovativi oncologici, perché il farmaco oncologico, oggi parliamoci chiaro, scusate se sono così, dottore lei mi perdonerà, se il farmaco ti fa vivere una settimana in più è ovviamente un principio giusto, però la spesa dello Stato deve essere ben valutata, ma se un farmaco come quelli sui quali stiamo investendo, da in alcuni casi, e mica in tutti, non facciamo bassa demagogia su questi temi, ma in alcuni casi dai 3 ai 4 anni di vita in più, voi capite che sta cambiando la vita delle persone, sta in alcuni casi, quindi il simbolo più grande sono i farmaci sulle patine C.